L'accordo che abbiamo scritto oggi è un accordo importante perché è possibile ai gruppi scout di viaggiare su tutti i nostri treni, gruppi da 10 persone con uno scopo del 20%, gli accompagnatori sono gratuiti, la riservazione del posto delle ore di morbida è anche gratuita. Tutta questa è un'iniziativa importante, porta sui nostri treni i valori importanti che sono i valori solidi e di tassi della chiesentia del gruppo Chiamovia dello Stato e di Granitalia e si inserisce nel trasporto regionale che oggi conta 1.600.000 viaggiatori al giorno e si spostano con circa 6.500 treni, quindi una capellarità e anche i cittadini di modalità che renderanno sicuramente agevole il viaggio dei scout. Grazie